Sono loro i cinque ragazzini invitati al Viminale da Matteo Salvini, coinvolti nel dirottamento dello Scuolabus la scorsa settimana nel Milanese. Tra loro Adam e Rami, che per il coraggio dimostrato riceveranno la cittadinanza italiana e dalle parole del Vice Premier sembrerebbe che non saranno i soli. Se ci sono alcuni bimbi che non sono cittadini italiani abbiamo esaminato e stiamo portando a termine il percorso perché lo possano diventare senza che questo comporti alcuna variazione di legge. La legge sulla cittadinanza funziona abbondantemente così come è e quindi il dibattito non esiste. Al Viminale insieme ai cinque ragazzini c'erano anche dodici carabinieri intervenuti mercoledì scorso sulla statale paullese evitando il peggio per i 50 ostaggi di Usseinussi. Rami e Adam erano riusciti a nascondere i propri cellulari dando l'allarme prima che l'autista del bus desse il veicolo alle fiamme.